Una convenzione tra l'Università dell'Aquila e il Comando regionale d'Abruzzo della Guardia di Finanza per favorire la partecipazione di tutto il personale delle Fiamme Gialle ai corsi di laurea dell'Ateneo. Un accordo che si inserisce nel contesto di una collaborazione prolungata nel tempo che già vede l'integrazione dei corsi della Scuola Ispettori e Sovintendenti in uno specifico curriculum universitario della Laurea Triennale Economica di Operatore Giuridico d'Impresa. La convenzione firmata questa mattina tra l'Aretrice Paolo Enverardi e il Comandante regionale della Guardia di Finanza Gianluigi D'Alfonso faciliterà la prosecuzione del corso di studio magistrale per gli allievi che hanno acquisito la laurea in Operatore Giuridico d'Impresa e favorirà anche, grazie a uno sconto del 30% sulla tassa universitaria, l'iscrizione a tutti i corsi dell'Ateneo a tutto il personale compreso quelli in pensione e ai familiari. La Guardia di Finanza crede molto nell'importanza della formazione, i compiti della Guardia di Finanza hanno una vocazione molto tecnica la Polizia di Economia e Finanza vuol dire conoscere molto le normative tributarie, le normative legali, le normative sugli appalti e quindi avere la disponibilità di corsi universitari alla portata del personale della Guardia di Finanza è una grande opportunità e speriamo appunto sempre di avere la possibilità di accedere a queste forme di collaborazione. Una convenzione, sottolineano i due rettori Paolo Inverardi ed Edoardo Alesse, che sancisce il rapporto di fiducia tra università e Guardia di Finanza e che mette l'Ateneo dell'Aquila nelle stesse condizioni di competitività con gli altri Atenei italiani. Si inquadra all'interno di un rapporto di collaborazione più esteso che vedrà anche altri interventi reciproci sia di approfondimento di tematiche di interesse per la Guardia di Finanza ma anche di tematiche di interesse per esempio per l'Ateneo e le cui competenze sono nella Guardia di Finanza. Grazie. 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 Grazie.